signore e signori buonasera benvenuti alla casa italiana Zerilli Marimodela New York University vorrei potervelo dire davvero ma invece un benvenuto soltanto virtuale questo che vedete qua dietro è tutta una finzione come si vede non appena muovo le mani ma è per me un grande piacere dare il bentornato virtualmente ma altrettanto calorosamente a due cari e molto stimati colleghi William Connell e Stanislaw Pugliese insieme a Stefano Vaccara che è il direttore della Voce di New York e anche lui uno storico di formazione e anche di mestiere abbiamo il grande piacere di presentare stasera qui in italiano ed è stata una scelta che abbiamo fatto abbiamo preso di proposito i curatori e anche in parte autori di questa monumentale opera che appena è stata pubblicata in Italia per Mondadori e Lemoni e storia degli italo-americani Stan Pugliese è unico professor di storia coordinario a Hofstra University tra i suoi interessi ci sono anche e soprattutto la storia dell'antifascismo del partito d'azione giustizia e libertà ha scritto monografie su Silone ed altri frequente ospite ed amico della casa italiana William Connell pure ordinario di storia ed è titolare della Cattedra Motta alla Seton Hall University i suoi interessi storici partono da prima di quelli di Stan esperto del rinascimento in particolare del nostro comune amico Niccolò Machiavelli e ha pubblicato sia negli Stati Uniti che in Italia in maniera diffusa saggi molto originali e molto interessanti che vi consiglio assolutamente di leggere dicevo perché con Stefano Vaccara e i miei collaboratori della casa italiana abbiamo chiesto a Stan e a William di fare questa presentazione in italiano perché pensiamo che tutto sommato negli Stati Uniti grazie a persone come loro grazie al Calandra Institute grazie a molte istituzioni a molti colleghi per fortuna si sta cominciando a parlare degli italoamericani in maniera seria al di là degli stereotipi al di là del sentito dire ma facendo studi approfonditi e c'è un interesse molto vivo da parte degli studenti anche alla New York University offriamo corsi sul sulla cultura la storia italoamericana e sempre notiamo con i colleghi che si alternano nella cattedra che appunto è la cattedra che si occupa di corsi che ha la più alta diversità della popolazione studentesca cioè è molto interessante vedere come tra gli studenti che seguono i corsi di Italian American Life and Literature c'è la più alta diversità raziale etnica di provenienza culturale perché l'esperienza italoamericana non riguarda soltanto gli italoamericani e dicevo abbiamo scelto di farli in italiano questa serata perché invece a differenza degli Stati Uniti dove finalmente ci sono sono entrati nell'università a pieno titolo gli studi italoamericani in Italia la situazione è ancora molto diversa quando io andavo a scuola al liceo e poi anche all'università che io sono laureato in storia mi ricordo in questi manuali di storia contemporanea monumentali che uno doveva imparare l'emigrazione italiana nel mondo diciamo tra 1860 e 1920 di solito aveva tre quattro righe ed era una delle poche cose sulle quali sia i manuali di storia cattolici che quelli marxisti erano d'accordo cioè nessuno dei due dedicava più di quattro o cinque righe a un fenomeno che ricordiamolo poi lascio la parola ai miei colleghi che sanno molto più di me che ha investito circa nove milioni di persone su una popolazione quella italiana fra l'unificazione e la prima guerra mondiale di poco più di 30 milioni cioè si tratta di un fenomeno biblico un esodo di massa che ha investito numeri che facciamo fatica anche a concepire immaginare cioè un po meno di un terzo dell'intera popolazione ovviamente non andarono tutti gli stati uniti le destinazioni diverse ma la cosa che ci premeva fare con questa presentazione in italiano era abbiamo detto la storia degli itali americani rivelata agli italiani gli italiani hanno bisogno di sentire e di conoscere la storia degli emigrati italiani nel mondo e il libro che william connell stampugliese hanno curato con l'edizione italiana curata da maddalena tirabassi è fondamentale per ristabilire questa verità storica cioè che c'è stato questo esodo e che è stato un esodo che è stato dimenticato volutamente è la memoria sporca dell'italia con la quale non ha voluto confrontarsi era un po una vergogna ammettere che c'era stato questo esodo perché queste persone ovviamente non andavano in viaggio di piacere andavano perché avevano dei bisogni che dovevano soddisfare per sé e per le loro famiglie e il bisogno primario era il bisogno del lavoro e per cui anche questo non è un caso che abbiamo deciso di fare questa serata con william connell e stanislava pugliese in italiano è il primo maggio festa del lavoro perché con questa serata vogliamo celebrare il lavoro il sacrificio e i successi degli italo americani e non potrei sperare di avere un gruppo più agguerrito determinato e competente per aiutarci a fare questa cosa stasera ringrazio ancora stefano vaccara perché l'idea la proposta è stata sua ovviamente noi l'abbiamo accolto con grande entusiasmo grazie ancora a stanislava pugliese a william connell e buon ascolto a tutti io adesso vado ad ascoltarli insieme a voi me la voglio godere grazie e grazie stefano ti ringrazio hai fatto una bellissima presentazione quindi mi hai risparmiato tantissimo tempo perché ormai delle della qualità del libro e degli e degli autori coautori e curatori hai già detto molto ecco questo io lo faccio faccio vedere un attimo il libro che in volume io la edizione italiana c'è quella americana uscita qualche un po tempo prima adesso in italia da poco tempo è uscita la storia degli italo americani e volevo dare subito la parola al professor pugliese al professor connell per dirci come come insomma cosa c'è dentro questo volume così grande che non avete ovviamente fatto da soli perché è un volume di autori vari ecco lascio a voi quindi subito spiegarci il contenuto di questo libro soprattutto chi lo ha fatto e come ci siete riusciti e poi andiamo agli argomenti grazie stefano ma prima di tutto vogliamo ringraziare stefano albertini giudine in tutto lo staff della casa italiana ringraziamo a te stefano per questa intervista prima che cominciamo vogliamo ricordare tre colleghi che ci hanno lasciato joanne ruvali francesco durante e bob viscusi sentiamo una profonda tristezza per la loro mancanza perché queste tre saggi erano l'ultima cosa che hanno scritto e siamo orgogliosi che possiamo farli così la gente possono leggere soprattutto vogliamo ringraziare maddalena tiravasi che è la curatrice della tradizione italiana e quindi passo la parola a bill per spiegare l'inizio di questo progetto poi sia accanto al ricordo degli scomparsi bisogna ringraziare i 40 studiosi che hanno contribuito al questo splendido volume e bisogna anche notare ringraziare il patrocinio di due fondazioni associazioni italo americane unico e tiro a segno da parte di stan e anche la mia parte da anni sentivamo il bisogno di mettere insieme di riunire due campi di studiosi veramente che fanno delle ricerche veramente ricche e sembravano procedere su binari diversi studiosi di due nazioni che in questo volume sono riuniti ottimo ottimo benissimo io anche volevo precisare una cosa ecco il siccome il titolo della nostra conversazione no gli italo americani svelati agli italiani no quindi questa volta proprio siamo diretti verso l'italia ecco io volevo dirvi questo che io farò finta farò pretenderò ecco faccio finta che io in realtà non vivo negli stati uniti da 30 anni e che conosco bene la storia degli italo americani io sono pure sposato con italo americana no io faccio faccio l'avvocato del diavolo cioè io quello che farò è che cercherò durante questa intervista di far finta oppure di medesimarmi in un italiano che sa pochissimo di quel degli italo americani e quindi quando vi farò delle domande o delle provocazioni o degli spunti ecco io vorrei che voi capito non pensate dice ma Stefano è impazzito non sa neanche questo no Stefano fa finta in questo momento di essere un italiano che non è mai stato in america o sa poco della storia degli italo americani e magari invece gli giunge un eco ecco gli giunge un eco di alcune cose che come voi spero e svelerete magari erano soltanto degli stereotipi o delle falsità va bene questo ho fatto una premessa perché io come direttore della voce di New York ecco non vorrei che tutti pensassero che io nelle mie provocazioni ecco dice ma questo questo qua da quanto tempo è che sta in america va bene e allora iniziamo allora prima di tutto primo maggio oggi è il primo maggio ecco quello che forse non si sa non si sa bene in Italia due cose uno che il primo maggio in america non si festeggia più più c'è da cento anni più di cento anni non si festeggia la festa del labor day è a settembre ma invece alla fine dell'ottocento il primo maggio veniva festeggiato soprattutto qui in america più che in europa o anche in europa ma diciamo le grandi manifestazioni dei lavoratori erano qui in america ecco è quello che quindi magari di spiegarci cosa è veramente questo c'è cosa perché il significato del primo maggio in america perché gli italo americani furono protagonisti ecco quello che non si sa è che gli italo americani ce lo spiegherete voi hanno avuto un ruolo proprio di protagonisti del primo maggio del comincio io posso fare voi c'era una volta che si pensava che gli italiani quando sono arrivati in america sono arrivati senza una coscienza politica ma non era vero non era così anzi in italia esisteva una tradizione di sindacati socialisti anche sindacali cattolici le leghe delle contadine le società di mutuo soccorso e quindi non era il caso che gli italiani sono arrivati qui in america con questo senso di amorofamilism come ha scritto edward banfield negli anni 50 c'era questa coscienza politica e poi come abbiamo visto in quella bella foto c'era questa questa legama questo rapporto tra i lavoratori italiani e i lavoratori ebrei specialmente poste come a new york e poi tutto comincia lì comincia là perché c'era questa partecipazione degli italiani nella politica dell'america dall'inizio rispetto al primo maggio posso dire questo che si celebrava dappertutto il primo maggio ma dopo l'esplosione di un bomba più poi un massacro dei lavoratori degli operai a chicago famoso incidente di haymarket square il 4 maggio quel arco di tempo diventava vista come visto come pericoloso soprattutto dal governo e così hanno spostato la festa del lavoro negli stati uniti al primo ai primi di settembre ad un posto equidistante fra la festa dell'indipendenza in luglio e quella del ringraziamento in novembre benissimo ed ecco la violenza la politica la violenza e le manifestazioni sindacali ecco una cosa dei italo americani forse anche esagerando perché poi a un certo punto si fecero la fama qui negli stati uniti a cavallo del secolo di essere violenti politicamente violenti allora e si parla di dei famosi bombaroli degli anarchici che mettono le bombe ora c'è sicuramente della verità però io voglio legare questo per esempio con la morte la famosa morte per la condanna a morte di sacco e banzetti ecco e cosa c'è di vero sin questa di 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 quello che noi abbiamo saputo in questo caso gli italiani sanno molto forse più più degli americani perché ci furono il famoso film di montalto ci sono stati dei delle su sacche banzetti si è si è scritto molto però ecco cosa ci potete dire gli italo americani dei di a cavallo del secolo riguardo alle manifestazioni sindacali primo maggio non primo maggio erano veramente i tre le fazioni più violente oppure è un mito non è non è un mito ma la storia è più complicata diciamo no un problema è che primo maggio l'america è sempre stato legato con i socialisti anarchici o i comunisti quindi hanno fatto questa festa a settembre no poi per quanto riguarda gli anarchici c'era questa questa scuola diciamo più filosofica per per esempio ericoma la testa e poi c'era quella scuola che ha pensato creduto che soltanto la violenza potrebbe cambiare la società e quindi ci sono questi c'è ma la testa qui e c'è sacco e vanzetti a quel lato e tutti e due erano lì e perciò la storia è un po più complicata ma io volevo anche sapere perché un po no cioè noi per noi nell'immaginario sacco e vanzetti erano erano innocenti furono erano furono uno scherzo furono praticamente loro furono uccisi per un per qualcosa che non avevano commesso anche per dare un esempio agli altri e far sì che non che non facessero più manifestazioni e generale voi da quello da storici cosa sapete di questo ma appartenevano ad un gruppo di anarchisti italianisti che erano abbastanza violenti diciamo tuttavia quel crimine particolare non sembrano innocenti benissimo benissimo quindi questa è importante importante se posto se è importante di ricordare che sacco in ben seri non erano anarchici quando sono arrivati sono diventati anarchici questo quando anno in america benissimo hanno lavorato hanno visto il sistema e quindi dopo hanno eh diventati anarchici benissimo benissimo allora è una uno dei da italiano no quando pensa gli italamericani io effettivamente non pensavo assolutamente che fossero così attivi nel movimento sindacale invece al contrario io pensavo che gli italamericani erano invece al contrario dei attivi attivisti fascisti cioè io nell'immaginario da italiano ho pensato ma questi italiani in america dicono che stavano con mussolini ecco ma perché perché se è vero voi ci direte se è vero o no ma è vero che gli italiani in america si presero una sbandata per mussolini anche qui la storia è un po complicata sì certamente c'erano tanti italiani che erano ehm che sopportavano il fascismo perché c'era un po della come io ho scritto una ideologia di compensazione cioè italiani che erano sfruttate che erano eh come si dice ehm gli americani hanno visto come organ grinders or eh ice cream vendors no eh poi è arrivato Mussolini che ha detto noi italiani siamo discendenti dell'impero romano e quindi psicologicamente per gli italiani in america e questo è diventato una cosa che tiravano ma poi c'erano anche quelli che erano antifascisti no ehm i sindacati lavoratori no ma ma poi eh c'era la concordato con il laterano eh con la chiesa eh la guerra di Etiopia che erano popolari no ma molto eh per per gli italiani in america momento sempre controverso e aiuta a spiegare il fenomeno credo eh si trova a Chicago eh quando negli anni prima degli anni trenta forse trentadue trentatré eh al momento dell'esposizione mondiale a Chicago e arriva eh il l'aviatore balbo eh italo balbo eh da da dall'Italia con una frotta di eh di eh di di aerei eh che eh che eh eh atterrano o invece eh su sull'acqua comunque sul lago Michigan era un momento splendido bellissimo per gli italiani di Chicago che avevano vissuto eh Al Capone e Saint Valentine's Day Massacre no invece c'era questa 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 immagine dell'Italia moderna eh modernizzata tecnicamente anche eh capace di un gesto del genere eh adesso a Chicago si discute eh è sempre molto controverso il fatto che hanno eh la strada si chiama Balbo Drive lungo il lago ma insomma eh è un momento che aiuta a spiegare questa psicologia eh eh l'attrazione del del fascismo. L'attrazione del fascismo. Eh e e tra l'altro lì io ho sentito a un certo punto questa parola Al Capone ecco e lì entriamo di diritto su quello dove c'è un diciamo lo la la madre di tutti gli stereotipi cioè quella del della mafia è che gli italoamericani ebbero un rapporto con la mafia diciamo così che mh come come se la mafia come se la mafia fosse nata qui in America invece di essere diciamo importata dall'Italia dalla dal dal sud Italia. Ecco io volevo sapere questo da voi quanto secondo voi prima di tutto è colpevole in questo diciamo l'apparato dello show business di Hollywood nel far sì che questo stereotipo di tutti gli americani italoamericani in un modo o nell'altro sono legati o gli piace la mafia cosa che un po' ha ormai di lunga data e che ha un po' anche stufato perché ovviamente anche vecchia come concezione però anche e quando opposto come forse da un certo punto di vista e questo lo parliamo da storici è anche esagerato l'opposto cioè quasi il rifiuto totale di riconoscere che il fenomeno della mafia è di cosa nostra qui eh o la mano nera come si chiamava all'inizio del secolo qui in America che ci sia che c'è stato e che tra l'altro è stato un fenomeno storico importante quindi io vi chiedo gli italoamericani come ne escono da questa conflittualità o troppo no o c'è troppo e c'è troppo stereotipo dove tutti vengono in certo modo assimilati a un fenomeno che non si meritano perché gli italoamericani sono stati dei grandi lavoratori e hanno costruito questo paese e allo stesso tempo non eccedere nella negazione ecco voi nei vostro studio e nei vostri studi qui gli italoamericani come ne escono da questo conflitto ma bisogna studiare i fatti i fatti veri e lasciare indietro le fiabbe le leggende attorno alla mafia i film sono come dei western che che dicono credo molto molto di più sulla natura umana che non cioè tra i film quelli che sono buoni ci dicono molto sulla sulla natura umana piuttosto che non sulla natura italoamericana diciamo è una lunga tradizione fra le etnie immigrate negli stati uniti di organizzazioni organizzazioni del genere fra i cinesi russi insomma non c'è niente di particolare direi tra l'intro americano sì io direi che il problema è che ormai è quasi un secolo che l'immagine del mafioso è radicato nella coscienza del pubblico americano purtroppo non soltanto per hollywood ma anche il governo ormai il mafioso in america è diventato come il cowboy un mito è forse quasi impossibile come si dice allevare questo questa immagine della della coscienza pubblica americana e devo dire che è quasi una cosa impossibile a spiegare agli studenti americani che che la mafia come conosciuti in america o come conosciuta attraverso la città cinema e la televisione è una cosa completamente diversa della crimina criminalità organizzata in italia è quasi impossibile e qui quella è un altro un altro discorso un altro problema ottimo ottimo io ho un anno sì prego è quasi come un pallo al piede del dell'itro americano è una cosa che che li segue da un secolo come diceva io ho una bella notizia per quanto riguarda questo problema è che se hollywood deve essere accusata sicuramente di aver per troppi anni sempre messo in risalto queste figure negative no esaltate anche con opere d'arte parliamoci chiaro god fada di coppola è un'opera d'arte nessuno lo può mettere in dubbio che è un film un grandissimo film però poi tutto quello che viene dopo quando ce ne sono troppi troppo stroppia però ecco hollywood finalmente questa è una notizia che di poche poche settimane fa si dice che dovrebbe essere confermata che il l'attore italiano americano leonardo di caprio che anche un produttore stia facendo un film su joe petrosino ecco joe petrosino ditelo voi chi è agli italiani che l'hanno dimenticato ma joe petrosino almeno una figura positiva petrosino è veramente un eroe della storia americana e anche italiana è cresciuto nel little italy e capiva bene cosa si faceva in quella zona conosceva la gente capiva la semiotica della vita nel little italy del tempo e così lui riusciva era fra i primi poliziotti a capire come combattere la mano nera è un po come falcone borsellini che borsellino che hanno potuto utilizzare la loro conoscenza nativa diciamo del del paese per per combattere questo questo queste organizzazioni e infatti come loro petrosino assassinato proprio a palermo seguendo le tracce dei mafiosi per ogni petrosino per per ogni al capone c'è un joe petrosino il problema è che nella nella cultura nella coscienza americana anche nella coscienza italo americana questo non è non è non esiste non non conosciamo la nostra storia e quindi se vediamo soltanto gli al capone di toni soprano non conosciamo joe petrosino purtroppo e sì e io da siciliano tra l'altro posso dire la stessa cosa perché in sicilia con i siciliani gli italiani avviene la stessa cosa no dove si fa di tutto un erbo in fascio e poi si dimentica che tutti 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 tranne forse dalla chiesa che comunque era un siciliano ad adozione perché era cresciuto il generale dalla chiesa come carabiniere in sicilia tutti quelli che hanno che sono morti combattendo la mafia poi erano i siciliani stessi quindi in un certo senso è lo stesso discorso forse che facevi che facevi tu bene adesso io volevo parlare di una cosa che mi hanno fatto notare e sull'associazionismo degli italo americani che è importantissimo no queste società di mutuo soccorso che all'inizio colgono gli arrivati che non parlano neanche la lingua e che sono delle 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 associazioni molto importanti per 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 ambientarsi all'inizio in un in questo paese che era molto difficile soprattutto se non conoscevi la lingua ecco l'associazionismo italiano americano quindi negli ultimi 150 anni di storia praticamente ecco perché si è voluto che da diciamo da gruppi che erano io non voglio parlare non è che voglio dire di sinistra però sicuramente che erano molto legate all'aiuto del debole adesso invece vengono percepite come delle organizzazioni molto conservatrici e quindi che più che all'aiuto del debole sono a fare la lobby per il potente ecco cosa ne pensate voi e questa questa rappresentazione è un po' esagerata oppure no io direi alquanto esagerata nel senso che le grandi associazioni a titolo americane e danno molti soldi agli ospedali all'organizzazione caritative anche alle università alle nostre ad esempio e hanno anche c'è 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 anche il patrocinio di questi libri e di questo libro che abbiamo pubblicato e che celebriamo oggi dall'altra parte comunque è vero che fra gli esponenti di queste associazioni e poi fra diciamo che si vede anche nei diversi convegni c'è una tendenza verso una politica di destra e repubblicana come mai io credo che la seconda guerra mondiale abbia avuto un grande impatto cioè c'era c'era l'apertura alla società americana italiano americani che l'avevano visto come chiusa prima ed era un'apertura che che è venuta attraverso il patriottismo il servizio della guerra che richiedeva un'apertura e un assenso anche ai valori degli esponenti del del governo stesso e del regime io direi che queste associazioni furono fondate erano create per per conservare la cultura italiana no conservare con non con la c maiuscola no e hanno questa funzione di conservare e quindi erano onticologicamente conservatrici e devo conservate da voi ma molto interessante e su questo c'è una 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 mia collega giornalista tiziana ferraro una famosa inviata della della rai che tra l'altro collabora una colonna nella voce di new york nel nostro giornale tiziana e sapendo di questa intervista che avrei fatto con voi mi ha detto guarda devi chiedergli una cosa che mi è rimasta impressa quando io lei ha lavorato qui a new york per alcuni anni quando io assistevo alle manifestazioni delle grandi associazioni italo americane io rimanevo sbalordita da come loro praticamente manifestano il loro attaccamento per l'italia e raffigurano l'italia un'italia di tanto tempo fa che non c'è più e non approfittano non si avvantaggiano abbastanza dell'italia moderna dell'italia di oggi insomma come se loro disconoscono o non conoscono fanno finta di non conoscere l'italia che quinta sesta poi è stata quinta potenza industriale del mondo e l'italia del design l'italia del successo ecco lei di tiziana mi diceva prova a chiedere queste professori ma lo fanno apposta a non riconoscere o proprio la disconoscono non la conoscono la nuova italia e perché questo problema che io ho chiamato la cultura della nostalgia è un'italia come hai detto tu Stefano che un'italia che non esiste più forse esiste o esisteva nell'immaginazione dei nonni invece tanti tanti italo americani non conoscono l'italia che è un paese completamente diverso oggi no ma è questa questa questo desiderio di vedere italia in un certo modo come come viene come viene visto in america attraverso il cinema i giornali roba del genere è quello il problema c'è anche una specie di timidezza di paura di trovare proprio l'italia di oggi che risulta forse da dall'esperienza del passato ricordo dei genitori dei nonni che sono partiti dall'italia che hanno lasciato un paese che poi ci ha abbandonato in un certo senso c'è un nostro collega di scusi che ha parlato degli italiani negli Stati Uniti come orfani cioè abbandonati e lui rappresenta l'america italiana come un grande orfanatrofio sì c'è quest'articolo di viscusi che appunto come ricordato è l'ultimo e pubblicato prima della scomparsa del professor Bob viscusi che tutti ricordiamo con grandissimo affetto perché è stato un grande grandissimo interprete della coscienza e dello spirito degli italiani americani e di questo loro anche nostalgia nei confronti di quello che hanno lasciato per andare oltre per creare un ponte ci vuole proprio un processo di adozione adozione molto bello questo ecco in questa nostra conversazione noi abbiamo titolato un po' con una provocazione che ecco svelare gli italiani gli italiani da Pelosi a Pompeo cioè dal primo maggio a Pelosi a Pompeo ecco Pelosi e Pompeo poi l'abbiamo scelti un po' perché tutte e due con la P insomma però soltamente rappresentano no? L'opposto nella nell'idea della politica e ecco io vi volevo chiedere ma questi prima di tutto il successo degli italiani nella politica che è evidente il governatore di qua dove ci troviamo a New York eh la Pelosi e ovviamente la 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 terza carica dello Stato prima donna prima americana donna deve diventare la terza carica dello Stato come speaker eh eh della Camera poi ci abbiamo i governatori qua qui New York che ne ha avuti diversi ma ancora l'attuale governatore Andrew Cohen il sindaco eh eh il de Blasio ovunque trovi nomi italo americani in sparsi nella politica no? Come anche nella corte suprema ormai ovunque ecco la mia domanda è ma gli italo americani hanno una predisposizione particolare per la politica a prescindere da dove si posizionano? Sono delle persone particolarmente io voglio dire nella storia so perché dobbiamo andare a Fiorello la guardia e così via sono che hanno il loro successo è dovuto al loro radicito americane o al fatto che ne troviamo così tanti che loro non sono come altro tipo di eh altri tipo di minoranze che sono eh che che si possono mettere solo su un partito o uno schieramento ma invece si trovano ovunque addirittura impure ne so schieramento socialista no? Nel momento che attenzione Bernie Sanders è solo un ultimo esponente di un socialismo americano che ha visto gli itali americani e sappiamo di chi parliamo no? Di un certo Vito Marco Antonio ecco volete spiegarci gli itali americani? La domanda è scusate la grande prefazione ma perché hanno così successo in politica americana anche se però presidente ancora non ce l'abbiamo ma ecco nell'introduzione del volume eh scrivo eh degli anni ottanta come il periodo gli decenni o in cui gli italiani arrivano eh su scena eh su 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 grande palcoscenico americano eh non solo nella politica eh non solo nella corte suprema e nel senato eccetera eh con la candidatura di Geraldine Parrara alla vicepresidenza ma anche nello sport nell'architettura si pensa eh in finanza eh si pensa alle alle banche all'industria automobilistica insomma eh è un è un fenomeno più grande che non la politica sola direi. Sì io non vedo un legame tra Pelosi e Pompeo ma sì sono tutti e due italo americani ma ma cioè la Pelosi è la figlia del sindaco di di Baltimore quindi è cresciuto in questa questa questo mondo di della politica no? Forse conosceva la politica e il potere invece è ogni tanto dice qualcosa della della sua cultura della sua eredità italo americana invece di Pompeo non non vedo tanto lo so che è fatto un viaggio in Italia un paio di mesi fa ma eh sono così diverse che che tutto lì sono sono diversi. Ecco io io volevo eh ci sono ancora spero di riuscirci spero di avere altri dieci minuti ma ce li dovremmo avere per fare il punto sempre su il successo di italiani dove un altro degli stereotipi dall'Italia noi io faccio finta di essere italiano ecco vabbè questi italiani si saranno bravi giocatori di baseball Giù di maggio saranno dei brandi attori e registi grandi cantanti Frank Sinatra però quando si tratta no? Di eccellere nella scienza nell'accademia bene in questi giorni vediamo tutti siamo tutti nelle mani qui negli Stati Uniti siamo tutti nelle mani di un signore che si chiama il dottor Anthony Fauci eh eh Anthony Fauci che il eh ma lo conoscono tutti persino non in non in America non in Italia nel mondo perché è a capo del dipartimento di virologia dello del 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 federa dello Stato federale americano e ci sta in un certo senso salvando perché con i suoi consigli tieni a freno no? Un po' quelli che avrebbero voluto fare cose che quest'ora la situazione sarebbe per il coronavirus molto peggio ecco Fauci è un simbolo di una di di una di di una di tolo americanità che invece è appunto era solo uno stereotipo perché i gli italo americani hanno fatto studiare i figli e li hanno portati Anthony Fauci da Brooklyn è arrivato dove è arrivato come tanti altri scienziati ecco lui è il simbolo di una verità oppure è solo un caso e lo stereotipo che gli italo americani non arrivano nell'eccellenza della scienza e di questo tipo di posti ecco voi nel vostri studi io preferirei eh vedere eh nel carattere di Fauci qualcosa di italo americano eh cioè eh c'è un'umanità eh un senso della famiglia e della comunità che credo eh hanno eh le radici nella sua eh gioventù a Brooklyn e forse un insomma è un'ipotesi eh eh un desiderio mio eh vorrei vedere in lui queste cose io 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 vi parlo da Brooklyn e ho fatto crescere i miei figli a Brooklyn e quindi spero che sia così vedendo Fauci il presidente sul palcoscenico ogni giorno a me sembra una cosa stranissima perché Fauci ci sono tutti questi stereotipi degli italiani specialmente gli uomini che hanno un certo carattere che io vedo proprio nel presidente no? Quelle 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 quel carattere no? E invece abbiamo tutta questa tradizione questa storia di di vari Mario Cuomo Antonin Scalia Dottor Fauci che forse sconosciuto purtroppo no? Eh c'è sempre you know quel quel stereotipo di di Rocky o qualcosa del genere no? che per me è è ancora più peggio del stereotipo del mafioso. Ho capito molto molto interessante e adesso abbiamo il tempo di mettere l'elefante no? Che c'era nella stanza di cui nessuno parlava vi dico che è l'elefante per me è Trump e il trumpismo perché a me sembra e questo adesso smetto di essere italiano in Italia no? Che non sa niente degli italiani qua e invece io mi mi trasformo in direttore di un giornale che sta qui a New York e io penso mi sono accorto che invece molti non tutti assolutamente ma c'è una buona quantità di italo americani che secondo me si sono presi una sbandata una cotta per Trump e siccome è successo a tanti non è che sono solo gli italiani però c'è una mh ho notato che gli italiani si sono presi la sbandata per Trump su un aspetto che è terribile che è quello sull'antimigranti cioè antimigrazione e che sfiora a livello di in certe fasi il razzismo. Ora gli italiani americani che hanno sofferto sulla loro pelle un certo razzismo dove venivano linciati gli italian americani sono insieme agli afro eh agli afro americani quelli che hanno subito di più il linciaggio e qua ci sono delle immagini terribili di italian americani ricordiamo che un linciaggio enorme per esempio quello di New Orleans e così via come si fa ad essere per Trump proprio su questi temi come l'antimigrazione il muro assolutamente e cacciare via chi vuole una vita migliore come come loro nonni e bisnonni hanno cercato di avere mi lo spiegate voi perché per me resta un mistero. Secondo me ha qualcosa a che fare con questo eh sentimento di essere orfani cioè stanno da solo nel mondo eh cercano l'aiuto di eh un uomo che che pretende di comandare eh come diceva un'amica un amico eh è meglio eh eh meglio comandare che amare. Questo è un detto siciliano che che si dice che i mafiosi usano meglio comandare che vabbè non lo dico perché è un po' volgare meglio comandare che fare l'amore. Lo ricordo bene chi era l'amico. Stefano questa è un'ironia incredibile della storia no? Eh come ha detto Fred Gardoff è il nostro amico che ha scritto un saggio e gli italiani in America soffrono di un'efficienza dell'ironia no? E questo è incredibile pensare che ogni tanto dico eh che sento little americani che dicono qualcosa dico ma non vi rendete conto che cento anni fa quello che voi state dicendo di degli emigranti oggi. Loro hanno detto di noi di noi italiani che ero eramo così proprio così eh come dei topi ecco che sono descritti gli italiani come dei topi. E anche peggio no? Eh questo per me è un'incredibile ironia della storia. E allora niente io a questo punto voglio finire concludere di nuovo elogiando questo volume ma volume proprio è incredibile poi io devo fare ancora complimenti soprattutto alla professoressa Maddalena Tirabassi perché lei ha fatto un nuovo io avevo visto già l'edizione inglese e riuscire a portare in italiano è stato un lavoro veramente incredibile che a questo punto vi chiedo ci sono nella storia degli italiani ecco c'è questo rapporto con gli italiani che non si è ancora cucito cioè è un rapporto che ehm ci sono ancora delle lacune non si conosce gli italiani non conoscono gli italiani gli italiani non conoscono bene gli italiani di oggi e questo è una debolezza perché no l'unione fa la forza pensate quanta forza possa dare invece un rapporto più eh di conoscenza tra gli italiani in Italia e gli italiani americani qui e allora io vi chiedo ma lo scopo del vostro libro è il fatto che sia stato tradotto in italiano ecco questo è un libro quindi che è un'opera importantissima ma sempre dentro i circoli accademici per sapere di più e anche perché è fatto documentato e fatto lo stile del libro è sicuramente la la rigorosità scientifica nel libro è sicuramente accademica ma è un libro che invece aveva l'intenzione e voi avete parlato ho sentito prima che alcune organizzazioni italianicane eh mi sembra unico e altre hanno hanno finanziato il libro ecco la lo scopo era quello di finalmente far conoscere la storia degli italianicani anche gli italiani in maniera di riuscire finalmente a compiere questo miracolo dove gli italiani e gli italianicani possono finalmente comprendersi veramente diventare una forza ecco questo io volevo chiedervi in conclusione io vedo questo proprio come l'appello all'adozione di cui parlavo è proprio un è un appello formale gli adozioni da parte degli italianicani che fanno all'italia io direi che abbiamo abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra la storia accademica e la storia popolare diciamo un libro che si può leggere storici ma anche la gente per 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 trovare questa strada tra storia e memoria per ricordare la storia pensando che la parola parola ricordare dice ridare al cuore e se vediamo la copertina possiamo possiamo vedere la copertina c'è c'è l'immagine del 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 di frangelico e la fuga della sagra famiglia che abbiamo messo questa è un questo è un'immagine del della gianca del che anche lui era immigrato dall'italia è vissuta a chicago è morto nel 1978 questa questi bel questa bell'immagine dei di quelli di una famiglia di emigranti dell'italia e c'è poi il quadro di di frangelico della della fuga della sagra famiglia e per noi questo è tutto qui è la storia degli italiani e italo americani è tutto qui nel quadro benissimo io ringrazio tantissimo il professor pugliese tempo yes e il professor william connell william connell the city of university new jersey sit on all university new jersey mentre il professor pugliese della hofstra university on long island due importantissimi storici americani che ci hanno dato veramente un volume insieme a tanti altri autori che sono qui dentro un volume importantissimo per la storia degli italiani di tutti gli italiani non sono solo i titoli americani alla fine fanno parte della storia degli italiani io eh quindi ancora vi ringrazio ringrazio anche la la tutto lo staff e bravissimi lo staff della della casa italiana della Zerili Marimò che come avete visto con le immagini che scorrevano è veramente di una professionalità incredibile e io volevo ricordare l'appuntamento che ci sarà tutti a casa la prossima settimana mercoledì 6 maggio stesso orario alle 5 pm ora di new york alle 23 in italia time of change and the power of design e sarà una conversazione tra egno ranaboldo e ceo del martin bauer nord america con i mauro porcini che lo shift design office office della pepsi co e quindi eh io vi lascio vi ringrazio e speriamo che finalmente gli italiani no abbiano finalmente capito gli italo americani grazie grazie a tutti grazie a tutti